E' iniziata la seconda fase del progetto Marca Village. Il progetto, voluto dalla comunità montana di San Severino Marche, con il contributo della Camera di Commercio di Macerata e il coordinamento organizzativo di LACAM, vede 20 strutture coinvolte tra agriturismi e country house e si basa su un'idea innovativa e altamente sperimentale, che non intende chiudersi. Intende sicuramente essere di stimolo e di buon esempio ad altre realtà e ad altri territori, diciamo che l'innovatività sta soprattutto nella genesi di questo progetto. Operatori che vengono ascoltati dall'ente pubblico, l'ente recepisce dei bisogni, li sintetizza in un'ipotesi di sviluppo condivisa dagli operatori e dà a questi operatori la possibilità di confrontarsi sia con gli attori del territorio, quindi in questo caso del maceratese, ma anche con altre realtà di successo italiane. Monachesi sottolinea anche il ruolo di Marca Village, che non si ferma alla promozione, ma accompagna i operatori nel difficilissimo momento della commercializzazione. Marca Village promuove il confronto con operatori del trade che operano a vari livelli ma che hanno una matrice comune, l'essere marchigiani. In questo contesto si inseriscono le collaborazioni con i tour operator territoriali. Nell'esigenza di tutti gli attori di unirsi in un momento di crisi per cercare di far conoscere e dare la giusta valenza al proprio territorio. Marca Village ha riunito all'interno una serie di strutture che partono dagli agriturismi fino ad arrivare alle country houses per dare il giusto lustro a quello che è un territorio che piano piano comincia a ricompartarsi, grazie anche e soprattutto all'esigenza di ogni singola struttura del fare e la necessità che si adopera appunto nel volere in assoluto creare una rete. Nelle immagini che scorrono sullo schermo vediamo proprio uno dei primi appuntamenti targati Marca Village, con la partecipazione alla dodicesima edizione di AgriTour, fiera dedicata al turismo rurale, svoltasi lo scorso weekend ad Arezzo. Un'occasione che ha permesso di guardare al pubblico nazionale e internazionale, ma anche di dialogare e sedurre i nostri vicini di casa, i toscani, target interessante e smaliziato che nel corso dei tre giorni ha letteralmente preso d'assalto lo stand, complici le prelibatezze messe in mostra e offerte all'audience nelle degustazioni a cinque sensi. Il mistra Barnelli, la vernaccia di Serrapetrona di Colle Luce, il verdicchio di Mattelica delle cantine Belisario, il vino di Visciole Antinori sono stati di volta in volta abbinati ai salumi di Fucili, ai formaggi di Misici, al torrone di Camerino di Casa Francucci, conditi da storie di territorio legate ai produttori e alle nostre tradizioni. Tanti momenti che hanno dimostrato l'interesse che il pubblico riserva al nostro territorio, con Gianluca Chiappa, presidente della comunità Montana e di Ivana Marchegiani, presidente di LACAM, che hanno raccontato e si sono raccontati per evidenziare l'aspetto che più di tutti definisce la progettualità che risiede in Marca Village, il capitale umano, la grande forza espressa da un gruppo che vuol fare la differenza. Un momento importante della rassegna toscana è stato il campionato nazionale di cucina contadina, dove Lara e Melissa Mancini dell'agriturismo Agra Mater di Colmurano hanno tenuto alta la bandiera della nostra regione, presentando un delizioso piatto di filiera, coniglio in porchetta accompagnato da erbe di campo ed abbinato al sapore della sapa. Un confronto che per quest'anno ha visto trionfare la Basilicata, ma per il prossimo anno la sfida resta aperta.